E' emergenza sicurezza a Barletta dove questa notte si è consumato l'ennesimo atto criminale ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. Una settimana dopo l'assalto allo storico bar Nicolino nei giardini De Nittis, a farne le spese sono questa volta i titolari di un negozio di abbigliamento di via Ferdinando d'Aragona. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo di circa 40 anni in compagnia di una donna con cui poco prima era in atteggiamenti intimi mentre scagliava una pietra contro la vetrina del negozio. Incurante o forse inconsapevole di essere ripreso dalle telecamere, il malvivente avvolto scoperto si è introdotto all'interno dell'esercizio commerciale portando via il denaro presente in cassa, circa 300 euro. Nulla della merce in vendita sarebbe stato toccato. I titolari hanno sporto denuncia alla polizia consegnando le immagini registrate dalla videosorveglianza. Stanotte intorno alle 2 e un quarto abbiamo ricevuto direttamente la chiamata della polizia però dal nostro numero di telefono perché sono entrati, ovviamente c'era l'allarme che già suonava e ci hanno avvisato del furto. Noi abitiamo vicinissimo quindi siamo arrivati nel giro di un secondo e quello che abbiamo potuto vedere ovviamente è che ci era la vetrina completamente distrutta e abbiamo constatato ovviamente che è stato rubato il fondocassa della cassa stessa del negozio. Per noi che non ci era mai successo fortunatamente una cosa del genere è stato bruttissimo perché ti senti ovviamente che ti entrano in casa, questa alla fine è la nostra casa e io spiro vivamente che visto che ci sono stati anche nei giorni scorsi altri furti in città che qualcuno prenda seri provvedimenti perché comunque noi commercianti non ci sentiamo tutelati.